ovviamente buonasera allora stasera ripensando ad alcune persone che ho conosciuto nel corso dei miei 46 anni di vita e mezzo mi sono venute in mente due figure particolari due figure diverse per come agiscono ma che contemplano lo stesso dovere la stessa missione in qualche modo chiamiamola un po come vogliamo sono gli accompagnatori terreni della morte ve li voglio raccontare sono due figure poco conosciute soprattutto qui in occidente e in europa in particolare e che hanno un compito che riassume il termine stesso a campo accompagnatori terreni della morte sono quasi sempre indirizzate allo sciamanesimo quindi fanno parte dei discepoli sciamanici o sono sciaman quindi sciamani finiti più o meno potenti che siano o sono appunto dei discepoli sciaman normalmente sono una stessa categoria che però in un certo periodo del loro operato come discepoli di uno sciamano si occupano dell'accompagnamento musicale chiamiamolo così quando riescono a finire il loro percorso spirituale iniziatico e diventano sciamani accompagnatori allora imparano a pulire anche l'anima di chi ci si affida sembra un discorso semplice ma in realtà soprattutto il lavoro dello sciamano non tanto del discepolo è abbastanza complesso le loro tecniche sono personali pseudo segrete e quindi comunque non entro nei dettagli delle tecniche in sé ma il loro modus operandi è così fatto gli accompagnatori discepoli di solito nelle fasi terminali di uno di una persona che si affida a loro e che sta per tornare nell'oltre accompagnano gli ultimi tempi le ultime ore gli ultimi minuti gli ultimi giorni a volte di vita di quella persona attraverso dei ritmi musicali particolari il tipo di strumento rigorosamente suonato dal discepolo normalmente è scelto in base alla corrente sciamanica del discepolo stesso quindi al tipo di sciamanesimo a cui il discepolo si è aggregato alcuni usano tamburi jambè o in generale percussioni altri utilizzano sonorità vibratorie come le corde le arpe le chitarre le campane tibetane il violino alcuni la voce cantando determinati tipologie potremmo definirli mantra dei mantra con sonorità ripetute e via dicendo queste vibrazioni musicali aiutano a ripulire la parte diciamo più esterna dell'anima che si sta staccando da quel corpo l'alleggeriscono di tanti pesi che altrimenti si porterebbe dietro si porta dietro dalle vite precedenti chi si affida ai discepoli sciamanici per la pulizia musicale dell'anima di solito se ne va dal corpo umano in maniera più leggera più pulita non subisce il trauma della morte che fa perdere determinate memorie arriva di là con idee molto più chiare e non ha la necessità di scrollarsi poi di là determinati ricordi determinati quelli che un po' vengono definiti grosso modo ma ci sarebbe da aprirci un'enciclopedia della Treccani su questo argomento quelli che vengono un po' definiti le cose incompiute che poi non sono cose incompiute ma sono semplicemente strascici strascichi non mi ricordo mai come si dice appunto di concetture terrene che in qualche modo hanno sporcato e sono rimaste incollate all'anima stessa lo sciamano invece non è il discepolo lo sciamano accompagnatore del regno immortale quindi sciamano vivo e vegeto fa una sorta di confessione al prossimo defunto cioè a colui che sta per andarsene cercando di convincerlo a pulire la sua anima facendo andare via lui stesso i pensieri che lo ancorano alla vita che ha vissuto fino a quel momento gli insegnano a lasciare andare il passato a lasciare andare i ricordi a lasciare andare le ideologie ora questo è un discorso che chi studia sciamanesimo chi si interessa di elevare la propria coltivazione spirituale appunto a livello sciamanico o a livello quelli che vengono definiti santoni quelli veri non quelli spilaspiccioli che creano sette asceti ecco più che santoni asceti una sceta allontana da sé dalla sua mente le tribulazioni umane le cose che agli esseri umani normali possono sembrare importantissime per una sceta non hanno nessun senso peraltro c'è da dire che quando noi questo in generale nella vita ci accaniamo tanto pensando che una cosa sia un problema è quando non troviamo la soluzione a questo perché l'ansia che generiamo nel pensare a quel problema ci fa perdere di vista la strada per superarlo c'è un detto orientale che tradotto in italiano dice c'è un problema esiste una soluzione allora non c'è bisogno di disperarsi non esiste una soluzione è allora inutile disperarsi questo perché perché l'ansia lo stress e l'ossessività dell'essere umano della mente umana materiale porta alla distrazione dell'anima dello spirito e anche del concretismo nel risolvere le situazioni di vita una persona ansiosa non risolverà mai nulla una persona accanita neanche gli idealismi le ossessioni idealistiche che possono essere di qualunque genere e forma ci sono ossessioni verso altre persone io senza di lui non vivo stavo dicendo non muoio non vivo è un'ossessione io devo assolutamente fare quella cosa trovare quel lavoro fare quella determinata quel determinato viaggio io devo assolutamente già la parola devo rimettere i limiti nessuno deve niente a nessuno a meno che non ti ho prestato un oggetto e me lo devi dare indietro per natura io poi non presto nulla a nessuno ma in generale questi attaccamenti queste ossessioni che noi possiamo giudicare giuste o sbagliate a prescindere si attaccano in qualche modo all'anima e se non vengono ripulite nel mondo terreno dovranno poi essere ripulite nel mondo dell'oltre questo perché perché sono dei pesi appesantiscono l'anima gli impediscono di fare cose ma sono dei pesi anche durante la vita materiale perché se io vivo con un'ossessione con un'ideologia che sia anche una lotta una lotta giusta la lotta per gli animali la lotta per le donne la lotta per i diritti umani qualsiasi cosa qualsiasi obiettivo quando diventa ossessivo quando diventa l'unica ragione di pensiero l'unica ragione di esistenza non è più un bene diventa un estremismo che fa male agli altri e fa male in primis alla nostra anima perché ci si incolla adosso se noi fossimo estranei all'agitazione mortale riusciremmo sicuramente a gestire meglio e a trovare anche soluzioni migliori al problema stesso se noi siamo ossessivi a parte che l'ossessionarsi a una certa questione qualsiasi questione sia da una lotta ideologica a una persona che vogliamo a tutti i costi a un lavoro che vogliamo a tutti i costi a qualsiasi cosa che ci ossessiona che diventa il fulcro dei nostri pensieri giornalieri ci logora in qualche modo anche il corpo e il fisico votarsi a una causa unica non ha mai un senso non è mai cosa buona per l'anima la sporca a prescindere che l'ideologia sia giusta o sbagliata che sia la salvaguardia delle foreste o che sia lo sterminio adolf hitler non importa a noi se abbiamo quell'ossessione ci logora ci sporca l'anima e non ci fa fare non ci fa vivere appieno le esperienze e non ci fa comprendere le cose che noi invece saremo venuti a imparare in questa vita nessuno quasi degli esseri umani terrestri tranne appunto qualche asceta e qualche sciamano che è riuscito a superare la fase di interesse cronico verso una qualunque tematica ci porta ad avere l'anima nel corso della nostra vita sempre più sporca e sempre più appesantita queste due figure appunto che nel mondo occidentale sono poco conosciute nel mondo orientale e in alcuni luoghi diciamo più legati alle tradizioni arcaiche rispetto a questo mondo occidentale che si considera moderno e all'avanguardia non sono tanto conosciuti ma sono delle figure estremamente importanti proprio per la pulizia e l'alleggerimento dell'anima stessa se non si è riusciti a pulire a mantenerla pulita perché quando nasciamo è pulita quando veniamo in queste reincarnazioni ma poi la sporchiamo noi con i nostri pensieri e riuscire a mantenerla pulita per un essere umano medio normale che non è una sceta che non mira lo sciamanesimo e via dicendo è praticamente impossibile anche la persona più buona di questo mondo o più non è neanche una questione di bontà perché poi alla fine uno può essere buono ma avere delle ossessioni avere delle fissazioni le ideologie di salvaguardia di un qualcosa sono cose buone a livello di bontà perché tu cerchi di salvare una categoria di aiutare una razza di aiutare la natura di aiutare qualsiasi cosa ma il tuo modo di vivere quell'ideologia ti sporca l'anima quindi alla fine non c'entra il buono e il cattivo con lo sporco dell'anima appunto queste figure riescono ad aiutare a ripulirla fortunatamente specialmente per quanto riguarda i discepoli musicali anche in Italia cosa che non mi sembrava possibile invece da qualche anno ho scoperto che ci sono proprio dei gruppi peraltro di persone che sono anche inserite proprio nei lavori ospedalieri nei lavori di case di riposo e via dicendo quindi anche persone che hanno più possibilità di utilizzare queste tecniche musicali per accompagnare e appunto ripulire prima dell'ultimo viaggio lo sciamanesimo invece di pulizia dell'anima e del distaccamento da tutto ciò che ci teneva legati a questa vita non è tanto praticato e quei pochi che hanno incontrato nella loro vita qualche sciamano che poteva in qualche modo aiutarli a ripulire ulteriormente non solo a livello diciamo di vibrazione iniziale iniziale maggiormente la loro anima ne sono rimasti spaventati e non hanno voluto ma questo perché perché l'essere umano terreno tende a vivere questo tutti un pochettino siamo così tende a vivere di ricordi il pensiero di lasciarli andare i ricordi quindi di perderli di non averli più non di non pensarci perché il non penso a quella cosa significa però è lì messa via non ci penso ma c'è non è la stessa cosa che eliminarli completamente cancellare tutto ciò che ci ha legato tutto ciò che abbiamo vissuto in quella vita la gente si attacca ai ricordi come se fossero dei tesori ha paura che se perde il ricordo perde la sua essenza perde la sua esistenza anche perché perché i nostri ricordi sono meramente ricordi di un'unica reincarnazione di un'unica vita ma per l'essere umano che in quel momento sta vivendo quella vita quella reincarnazione ha un'importanza basilare non riesce l'essere umano a ragionare che appunto una vita terrena è una giornata di scuola se domani sto male ho mal di pancia a scuola non ci vado e buonanotte al secchio se vado male a scuola mi faccio ritirare a metà anno o mi faccio bocciare chi se ne frega l'essere umano quando siamo di là lo sappiamo quando veniamo di qua diamo questa importanza elevata a tutto ciò che viviamo come esperienza personale e di conseguenza conserviamo i ricordi di tutte le vicissitudini vissute nel bene e nel male in quella vita come se fossero dei tesori ma il 99% di quei ricordi sono proprio quelli che ci sporcano maggiormente l'anima io ho conosciuto appunto un gruppo di ragazzi di Scepoli qualche anno fa che praticavano questa musica accompagnatoria loro utilizzavano le percussioni in particolare gli jambè dove peraltro ho imparato a suonare lo jambè proprio con loro e erano tutti ragazzi infermieri che lavoravano presso strutture e ospedali e praticavano appunto questa sorta di loro lo chiamavano accompagnamento musicale perché anche la musica stessa e la ritmatura in certe situazioni aiuta la distrazione del pensiero e quindi un passaggio più dolce al ritorno alla quarta dimensione se noi siamo distratti non abbiamo paura e ho conosciuto due sciaman due sciamani che appunto hanno la capacità hanno lo studio proprio per poter accompagnare le persone che se ne stanno andando da questa ultima reincarnazione da questa dimensione ripulendo i loro pensieri aiutandoli a distaccare i ricordi a lasciare andare tutto ciò che avevano avuto in questa vita avevano avuto inteso come pensieri attaccamenti non come oggetti materiali e sono due figure ripeto che una la prima quella dei discepoli musicali io li chiamo così dà un senso quasi di beatitudine e la gente non è intimorita anzi accettano molto spesso infatti può essere richiesta appunto anche in certi ospedali e via dicendo mentre invece la tecnica sciamanica della pulizia diciamo si potrebbe chiamare pulizia confessoria di distaccamento dai pensieri e dai ricordi qui in occidente fa abbastanza paura proprio a seguito del fatto che le persone considerano i loro ricordi e le loro ideologie come se fossero tesori da custodire e non zavorre da dover staccare niente stasera mi è venuta in mente pensando appunto a una di queste persone che che ho conosciuto nella vita di parlare proprio di queste due tipologie di accompagnatori della morte le figure non conosciute dal mondo moderno e dal mondo materiale sono tante avere secondo me un più ampio raggio di conoscenza di queste figure di questi personaggi come anche quando ho parlato di alcune mie colleghe che sono le guardiane dei ricordi le guardiane degli inascoltati le guardiane dei corpi dispersi e altre tipologie di cui poi parlerò in seguito sono davvero tante le persone che hanno un ruolo determinato per l'universo sono tante di tante tipologie molte volte però tanti esseri umani terrestri materiali sono addetti a quella determinata cosa avrebbero quel dovere ma semplicemente non lo conoscono e non conoscendolo non lo possono neanche riconoscere in se stessi quindi trovo che sia fondamentale durante le registrazioni di questi video anche raccontare e spiegare alcuni perlomeno quelli che conosco ma non sono onnisciente non li conosco tutti ma quelli che conosco pian piano cercherò di descriverli al meglio nelle spiegazioni sul paranormale e cercherò di ampliare anche questo tipo di cultura che secondo me tutti dovrebbero perlomeno conoscere a prescindere che poi la si apprezzi o non non ci si trovi in accordo è comunque fondamentale secondo me conoscerla conoscerle tutte vi saluto ricordandovi come al solito che qua sotto ci sono tutti i social dei vari i vari link dei social che frequento vi ricordo di non starmi a scrivere in privato perché non rispondo ai privati io non uso il cellulare uso solo il pc e quando arrivo al pc alla sera dopo tutta la giornata che sono fuori casa per questioni lavorative o comunque personali ho da smaltire tante di quelle notifiche già di post commenti spiegazioni e cose varie oltre a lavori che faccio al pc che non ho proprio il tempo materiale di mettermi anche a chiacchierare in chat quindi io messenger non lo uso non lo apro è inutile che mi state a scrivere in messenger perché non vi vedo nemmeno tutto ciò che mi potete chiedere me lo potete chiedere nei commenti pubblici che sia qua che sia nei gruppi che sia sui miei account ma in pubblico in privato non rispondo un po' più sotto me le stavo scordando le 3 o 4 librerie più conosciute che in realtà però sono mille mila che tengono in vendita i miei libri ora sto scrivendo tra i libri in contemporanea perché ho avuto tre input diversi e quindi saltello da una parte all'altra anche per questo non ho mai neanche il tempo di respirare oltre al fatto che la vita comunque familiare la vita lavorativa e via dicendo occupa gran parte della giornata e sto anche seguendo un caso di cui adesso non posso parlare ma che non appena si risolverà 99 su 100 racconterò nelle testimonianze di una vita ma se ne parlerà io spero presto ma la vedo lunga ciao